Isabella posso mettere su youtube? Allora questo racconto che parla tanto tanto tempo fa io non facevo questo lavoro facevo l'ambulante e la domenica lavorava a Porta Portese un giorno mentre sto chiudendo tanto tempo fa mentre chiudevo tiro su due scatoloni dal banco per affrettarmi per chiudere per chiudere prima mi giro e mi trovo un pennellone un pennellone a roma significa una persona alta alta decolore basettoni baffi cappello giacca no giacca camicia scozzese magliettina di cotone zaino che mi si piazza davanti e non mi faceva passare guardava tutto quanto così stralunato allora lo guardo con occhi di sfida lui aveva gli occhiali però aveva il sole in faccia perciò riesco a vedere gli occhi dentro e me lo guardo imbruttito nel senso con aria di sfida però guardando negli occhi io con gli occhi faccio io con gli occhi conosco ma chi è questo qui e dimentico aveva il stomacino sopra le braccia ma questo conosco lui si irrigidisce poi vedo dall'altra parte che c'era uno che anche lui si mette in allarme pensavo che stassero insieme no un ragazzotto con una tuta tipo lotta greco romana perché restate faceva caldissimo infatti questo è una camicia scozzese c'era soltanto lui a un certo punto prende mia gira e se ne va io con sto dubbio rimango lì imbambolato ma io questo conosco ma chi è chi è chi non è il giorno dopo sul novello 2000 michael jackson gira in incognito per roma io avevo visto michael jackson io ho avuto michael jackson un palmo di naso poi sei uscito con la macchina a ricercarlo no perché non ce l'avevo però però avevo detto io questo conosco mi ha tolto un dubbio mi ha tolto un dubbio è stata una bella cosa invece il tuo idolo faccia a faccia che cosa avresti fatto e sai sai si riconosciuto non lo so ma penso che meno un autografo che scappava pure per farmi stare zitto se no c'è michael jackson che michael jackson a porta portese comunque l'ho voluto di perché sei amante della musica e avere il tuo idolo davanti a te è una cosa stupenda ti saluto grazie ciao ciao